Ciao ragazzi, oggi vorrei insegnarvi come pubblicare automaticamente su Instagram gratuitamente e pianificare tutto il mese senza dover stare sempre a tocchignare il telefono e insomma stare sempre su Instagram. Se volete fare le storie poi è un'altra storia, però con questo potete pianificare i vostri post a gratis. Io sponsorizzo questa piattaforma ma non ci guadagno niente, l'unica cosa guadagno una piccola commissione se utilizzate i servizi di Fiverr che nominerò in questo tutorial. Allora, Later come vedete è gratis e offre un profilo social e 30 post mensili, ok? Quindi io uso questo piano e tutto a posto. Quello che ho fatto io, ho pianificato i miei 30 post, sono andato da una ragazza su Fiverr in italiano e gli ho chiesto guarda mi faresti 45 post ad un prezzo che mi ha caricato solo 15 euro, con delle quote nel senso tipo frasi interessanti che le posterò sulla mia pagina Digital Nomads. Lei me l'ha fatto, vi faccio vedere la consegna che mi ha fatto, lavoro con una piattaforma di marketing, queste non sono pubblicità, dove le abbiamo messe? Instapost, ecco. Lei mi ha fatto questi post, 15 per colore, 15 per colore, 15 per colore, vedete? 45 di questi. Io ora me li vado a pianificare in Later e vi faccio vedere come, e così voi lo potete utilizzare anche per il vostro Instagram, chi lavora con Builder o chi lavora con qualsiasi cosa. O magari senza andare su Fiverr e comprare questa cosa, voi vi preparate i vostri post, basta che mettete le foto. Su Later mettete, le caricherete le foto, vedi qua ti da Upload Media, andate qua, fate Upload, io lo ho già caricate e andiamo a pianificare un post, ok? Io sto facendo in ordine di colore, questo è il mio prossimo post, questi due sono già andati, non so perché me li continuo a far vedere. Quindi metto il mio post all'orario che lo voglio pubblicare, quindi intorno alle 9, vedete? E poi qui potete scrivere la vostra caption che sarà il modo migliore per prendere il futuro e crearlo, ok? Allora, crea il tuo futuro, non lasciare che gli eventi condizionino la tua vita. Ok? Questo sarà il mio post di domenica mattina alle 10, perché l'ho messo alle 9 scusate, come vedete qua, e ho messo post automaticamente, quindi non dovrò fare niente. In più, per le caption, cioè tutti gli hashtag, qua voi vi potete creare degli hashtag salvati così che non li dovete fare condi, scusate, condizionino la tua vita. Vi potete salvare delle caption così tutte le volte che postate, mettete i soliti, ve ne salvate due o tre tipi e buttate lì, ok? Guardate, save caption, ho queste, portugal experience, no, business. Questa è la pagina business, quindi questo qua è quello che io di solito posto, poi vedete se non ci entra, non ci incastra, li cambiate un pochino, vi ne salvate un altro blocco, ok? Comunque questo per questo post va benissimo, gli do il via, salvo, questo è un post pronto che partirà domenica mattina alle 9, bomba, save. E ora lui me lo carica qua, lo vedete? Dopo, continuate così, io dedico una giornata per Instagram e dopo per 30 giorni non ci penso più, quindi io ho anche la scala di colore che sto facendo, no? Vado a pubblicare, il giorno dopo, lunedì, sempre alle 9, un altro. Quello che fai oggi puoi migliorare tutti i tuoi domani, quello che fai oggi può migliorare tutti i tuoi domani, me li sono fatti fare, quindi non lo so che quote ci sono, ok? Era per ispirare la gente e prendere un po' di clienti. Allora, caption, investi nel tuo presente, investi nel tuo presente. metto anche, inizia subito, inizia subito, io offro un corso online per guadagnare, ora ho imparato un pochino con l'affiliate marketing e dell'altra roba, inizia subito il tuo percorso, gratuitamente. Poi rimetto le solite caption di prima, che ce l'ho qua, poi se voi non siete d'accordo con usare sempre le solite caption, ve ne create delle nuove, ok? Però io faccio veloce così mi pianifico tutto il mese, salvo e mi va a salvare. Così avete capito insomma come funziona e continuate così e vi fate tutto il mese. Io mi ero programmato due settimane, due settimane fa e ora continuo fino a tutto il mese. Spero che questo tutorial vi sia stato chiaro, metto nei link giù, nella descrizione vi metto later che è gratis e se volete comprare dei post già fatti, vi consiglio questa ragazza by lupo, metto il link lì e io ci guadagno una piccola commissione se comprate da lei. Comunque Fiverr offre di tutti i generi di servizi, se vi serve del copywriting per l'email marketing o dei loghi o delle grafiche, su Fiverr trovate tutto, se comprate attraverso il mio link qua sotto, a me mi arriva una piccola commissione, sarebbe grandioso. Grazie mille, vi saluto, un bacione, ciao.